Benvenuti su Speedy News. Oggi affrontiamo un tema che interessa molti italiani. Quanto costeranno le sigarette dal 1 gennaio 2025? Le sigarette aumenteranno di prezzo, ma di quanto? Sarà solo qualche centesimo o vedremo prezzi raddoppiati? Restate con noi fino alla fine per scoprire tutto ciò che c'è da sapere. La legge di bilancio 2024 ha già previsto un aumento per le sigarette nel 2025. Stiamo parlando di un incremento di 20 centesimi per ogni 1000 sigarette, che potrebbe tradursi in un aumento trascurabile per ogni pacchetto. Ma attenzione, la vera incognita è la tassa di scopo, proposta dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica, che potrebbe far salire il prezzo di ogni pacchetto di sigarette fino a 10 euro o più. Questa tassa, pensata per disincentivare il fumo e finanziare il sistema sanitario nazionale, potrebbe ridurre drasticamente il consumo di tabacco, portando a un calo delle vendite fino al 20%. Ma se non fumate, potrebbe sembrare una buona notizia, no? Tuttavia, per i fumatori, l'impatto economico sarà significativo. E voi cosa ne pensate? Sareste disposti a pagare fino a 10 euro per un pacchetto di sigarette? Scrivetecelo nei commenti. Ma c'è un altro aspetto che pochi considerano. Se questo aumento fosse confermato, come reagirebbe il mercato del tabacco? Potremmo vedere cambiamenti nelle abitudini dei consumatori o l'esplosione del mercato illegale. Restate connessi per le prossime novità. Non dimenticate di iscrivervi a Speedy News per rimanere aggiornati su tutte le novità economiche e sociali che impatteranno le vostre tasche. Attivate la campanella per non perdervi i nostri prossimi video. E se volete supportare il canale, considerate l'abbonamento. A presto!